Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo al secondo appuntamento per la presentazione del nuovo corso di storia dell'arte edito da Schirà e Bonpiani. Questo è l'ultimo volume e siamo qui ancora con il professor Valerio Terraroli dell'Università degli Studi di Torino, docente di arte contemporanea e autore di questi volumi. Buongiorno professore. Abbiamo già una domanda dal... ricordo l'oggetto dell'appuntamento di oggi è la distruzione dell'oggetto artistico da Duchamp a Pollock e questo è il tema di questa puntata e abbiamo già una domanda dal liceo artistico Arcangeli di Bologna che chiede, ci hanno parlato dell'opera Fontana o di ruota di bicicletta di Duchamp, ma in che senso possono essere considerate opere d'arte? Beh sì, il problema è chiaramente legato al fatto che noi siamo abituati a pensare all'oggetto artistico come un oggetto che si ammira nei musei appeso da parete, se è un quadro o su un basamento, se è una scultura. E come dire, una delle caratteristiche più importanti dell'arte contemporanea, a partire proprio dall'inizio del Novecento, è stata quella di demolire l'oggetto artistico. Per quale motivo? Perché in realtà ci si è posti la domanda, e questo lo fecero quasi tutti i movimenti d'avanguardia, se avesse avuto ancora un senso rispetto allo sviluppo della cultura contemporanea proseguire sulla strada tradizionale degli oggetti d'arte come erano stati per secoli. Certamente il movimento d'avanguardia che più di tutti si pone il problema di cosa sia l'oggetto artistico è il dadaismo, che è l'ultimo fra l'altro a nascere cronologicamente tra i movimenti d'avanguardia, ricordo che il 1916 è la data ufficiale dell'avvio del dadaismo, e certamente all'interno del gruppo di dadaisti, Marcel Duchamp ricopre un ruolo fondamentale di trasformazione dei linguaggi e dei medium, di presentazione delle teorie artistiche. Fontana che cos'è? Fontana è un orinatoio utilizzato dall'artista come un oggetto che lui non ha fatto, che quindi non ha modellato, che non ha ideato, che ha scelto tra migliaia di altri oggetti simili e che ha trasformato però dal punto di vista semantico, cioè dal punto di vista del significato. Si tratta, diciamo, della prima opera d'arte concettuale, perché collocando l'opera su un basamento e firmandola, come si vede, R. Muth 1917, l'opera di per sé diventa un oggetto d'arte, ossia diventa un oggetto a cui colui il quale porta su di sé, diciamo, il ruolo di artista che gli viene riconosciuto, fissa un significato. Certo, è chiaro che c'è una componente di provocazione all'interno della proposta che fa Duchamp, che è una provocazione esplicita, ovvero pone il pubblico davanti a qualcosa che gli pone delle domande, che cos'è quello che sto guardando. Quello che però Duchamp vi propone è anche dire fate un passo oltre a quello che vedete. Cioè, vediamo davvero solo ed esclusivamente una ruota di bicicletta, un orinatoio o forse quegli oggetti nati serialmente per essere degli oggetti da usarsi, collocati in un luogo diverso dalla loro funzione. Cioè, io prendo la ruota da una bicicletta, la stacco, la metto, la monto su un basamento e mantengo la staffa. Per cui, per esempio, togliendo il pneumatico e togliendo la camera d'aria, ho questo cerchio perfetto di ferro, se io lo tocco, la ruota gira, i raggi spariscono, ho una forma perfetta in movimento. Allora forse quello che io vedo non è più una ruota di bicicletta, ma è un'altra cosa, è un senso del tempo che trascorre, è un'opera mobile, è la perfezione delle forme. Quindi, in realtà, proprio con Duchamp noi abbiamo veramente la distruzione dell'oggetto artistico tradizionale e la nascita dell'oggetto artistico contemporaneo. Sia dadaisti che surrealisti erano molto impegnati politicamente, erano attivisti politici. Che cosa ha determinato, chiede l'Istituto d'Arte di Guidizolo Mantua, una diversa posizione politica tra dadaisti e surrealisti? È una bella domanda questa, che, come dire, comporterebbe una risposta molto articolata. Allora, per semplificare, i dadaisti hanno una posizione politica, diciamo, più anarchica, nel senso che però va visto anche il contesto. Noi poi ragioniamo sempre pensando ai movimenti dadaisti, futuristi, suprematisti. Poi, in realtà, dentro ci sono personalità anche molto diverse tra di loro e che hanno, ovviamente, esperienze diverse. I dadaisti si riuniscono in Svizzera, a Zurigo, nel 1916. Per quale motivo? Tra l'altro vengono dalla Francia, dalla Germania, dai paesi slavi, perché c'è la prima guerra mondiale in Europa che sta distruggendo l'Europa. Questi giovanissimi artisti, poeti, letterati, pittori, scultori, eccetera, perché sono a Zurigo? Perché sono scappati dai loro paesi in odio alla guerra, per una scelta proprio tipo pacifista. Quindi l'unico modo per non essere richiamati in guerra era scappare dal proprio paese, quindi fare i disertori. Se li avessero presi ai confini li avrebbero fucilati. Quindi sono in Svizzera e a Zurigo si riuniscono in questo ciclo che si chiama Cabaret Voltaire e la loro scelta davanti al massacro che vedono, che hanno davanti agli occhi in tutta Europa, la Svizzera è l'unico lembo di terra europea non travolta dalla guerra, la reazione è quella di fare un'arte che distrugga l'arte. La loro dichiarazione, diciamo, di intenti è proprio che l'arte non esiste, perché se nemmeno l'arte, il senso lato, c'è la poesia, la musica, la letteratura, l'arte vera e propria, non sono riuscite a modificare il carattere degli uomini che sono comunque delle belve assettate di sangue, allora è inutile fare arte e quindi inventano un modo di esprimersi chiaramente anarcoide, cioè che non segue nessuna regola, anzi l'unica regola è non avere regole. I surrealisti vivono in un contesto diverso, perché sono alcuni di loro dei dadaisti, diciamo, di partenza, per esempio Marcel Duchamp, per esempio Paul et Loire, che era un poeta, ma si trovano a lavorare, a vivere nell'Europa degli anni, dalla fine degli anni 20 e soprattutto degli anni 30, cioè un'Europa divisa tra le dittature, il nazismo in Germania, il fascismo in Spagna e in Italia, il rigore staliniano nell'Unione Sovietica, lo scontro poi che arriverà poi alla guerra dal 40 in poi. Quindi i surrealisti in realtà appartengono quasi tutti per scelta ideologica alla sinistra, cioè al Partito Comunista, si sono costruiti ideologicamente sui testi marxiani, hanno vissuto la nascita, soprattutto pensate in Spagna, pensate da lì voglio dire, la vittoria del franchismo contro la Repubblica Spagnola, quindi in realtà quasi tutti questi artisti erano orientati verso una scelta di carattere appunto marxiano, ma anche loro erano molto diversi tra dei loro tante vecchi, tanto è vero che durante la guerra o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale presero anche strade diverse. Quindi è però vero che sono movimenti, sia il dadaismo sia soprattutto il surrealismo, che sono stati connotati dalle scelte politiche. Che cosa vuol dire informale? Ci chiede liceo classico Umberto I di Palermo. Beh, informale denuncia già nella sua definizione semantica quello che è, cioè definisce un'espressione totalmente priva di forma. Anche se si potrebbe discutere in linea teorica se l'informale o l'informe come alcuni critici hanno definito, cito per tutti Rosalind Krauss su questo tema, l'informe ha una propria forma. Allora per uscire dal bisticcio di parole, se noi prendiamo un dipinto di Pollock per esempio, che cosa vediamo? Vediamo una tela, una superficie che è completamente ricoperta di filamenti di colore. Se noi cerchiamo una forma dentro quella tela, non la troviamo immediatamente, o forse non la troviamo proprio mai, perché in realtà già sarebbe difficile stabilire sopra, sotto, destra, sinistra, rispetto a un quadro tradizionale in cui capiremmo esattamente la collocazione. È informe in che modo? È informe nel modo in cui è stata realizzata, perché Pollock, Jackson Pollock un pittore americano che lavora a New York durante gli anni della seconda guerra mondiale, soprattutto queste prove informali nascono dal 1947 in poi, nel giro di pochissimi mesi, che cosa faceva Pollock? Stendeva una tela sul pavimento senza telaio, come un lenzuolo, e poi cominciava tutta una specie di danza rituale intorno alla tela, sgocciolando con pennelli di grosse dimensioni un colore molto denso che raccoglieva dai berattoli che sceglieva. E naturalmente questo colore sgocciolando sulla tela assumeva delle forme che il pittore non governava, perché non le estendeva a lui, cioè cadevano queste masse di colore e via via si stratificava. Allora uno può dire, certo, però Pollock per quanto in trans, in questo lavoro, sceglieva il colore che voleva mettere, prendeva il bourbon, prendeva il rosso, prendeva il verde, quindi già faceva una scelta. E il movimento del braccio già faceva una scelta, quindi se si volesse, in senso come dire puramente teorico, una forma c'è, è che il risultato che resta alla fine di questa performance, che è la vera opera d'arte, perché in realtà la tela è solo e semplicemente il testimone di un percorso creativo, bene, quella cosa lì non ha una forma, non ha una forma definita, anzi sembra che il colore continui a muoversi, continui a stratificarsi, tuttavia se noi prendiamo un altro artista contemporaneo a Pollock, Mark Rochko, vediamo un informale completamente opposto, cioè noi vediamo un informale che è basato invece su una stratificazione cromatica, invece fatta con calma, con tranquillità, non c'è una performance, una danza tribale intorno alla tela, ma anzi Rochko ragiona proprio come se costruisse una miniatura, anche se le teli sono molto grandi, e stratifica, diciamo, piani di colore che si sovrappongono gli uni agli altri. Però se noi guardiamo per esempio il quadro blu su blu, voi vedete che in realtà lì non c'è un limite tra l'azzurro, il blu, il blu oltre mare, anzi i piani si sovrappongono e si sovrappongono in modo continuo, creando un effetto quasi di movimento visivo. Anche qui non c'è una forma, non è facile dire quelli sono dei quadrati o dei rettangoli, perché non sono definiti per tali. Quindi, per sintetizzare, l'informale è questo, cioè è l'apertura di una strada, e lo fanno Pollock, Rochko, Max Reinhardt, c'è tutto il gruppo appunto degli informali americani tra il 1947 e il 1948, e poi anche in Italia, pensate a Fontana per certi aspetti, o a Burri, che sono gli informali europei, aprono una strada all'arte contemporanea che è quella della rinuncia definitiva, almeno per quel periodo che interessa questo percorso, una rinuncia definitiva a qualsiasi regola precostituita, a qualsiasi forma precostituita, a qualsiasi materiale precostituito. L'artista, come per esempio si vede in questa opera di Burri, elabora un suo processo creativo, questo è il pensante che è un telaio da quadro, ma ricoperto di una stratificazione dei fogli di cellofan, riempiti di vescicole di colore rosso, che simula il sangue naturalmente, e l'artista crea, non con un pennello, non con i colori, con la fiamma ossidrica. Tocca, sfiora la superficie, spegne la fiamma dopo averla appena fatta partire, perché il cellofan si brucia, si rapprende, il colore cola, e alla fine cosa abbiamo? Abbiamo una superficie, non possiamo chiamarla tela, non possiamo chiamarlo quadro, una superficie in forme, perché non ha delle forme definite, che però evoca, in chi la guarda, tutta una serie di pensieri e di situazioni che vanno dalle ferite del corpo alla terra bruciata dal sole alle superfici lunari, a quello che poi uno intende vedere nell'opera d'arte. Rialeacciamoci ancora ai surrealisti, e a Pollock, continuando a parlare di lui, la pittura di Pollock si definisce action painting, si può paragonare all'automatismo psichico dei surrealisti. Abbastanza, abbastanza, nel senso che l'action painting di Pollo, come dicevo poc'anzi, è legata a un percorso, certamente individuale dell'artista, che non ha dei preconcetti, e non ha un percorso stabilito a priori. L'action painting, come dice il termine stesso, è un'azione del dipingere, che si svolge per un certo tempo, in un certo spazio, rispetto a un medium che è la tela con il colore che si stratifica, e come dicevo prima, la vera opera d'arte, in senso stretto, in senso proprio di valore artistico, è la performance dell'artista, cioè il momento stesso in cui Pollock intinge per la prima volta il pennello nel colore, comincia a far cadere le prime gocce al momento in cui appoggia il pennello e se ne va. Quella è l'opera d'arte, che naturalmente per definizione è irripetibile, cioè mai più si vedrà perché è stata fatta in quel momento. Cosa resta di quel percorso? La tela. La scrittura automatica dei dadaisti è qualcosa di affine, ma diverso, perché in realtà nella scrittura automatica ci sono elementi anche precostituiti, perché un tipo di scrittura automatica era per esempio quella inventata da Tristan Sarà, che è un po' il teorico del movimento dadaista proprio a Zurigo negli anni dieci, che era quello di prendere un giornale, un libro, ritagliare le lettere come per fare una lettera anonima diciamo, metterle in un sacchetto e anche delle parole già stampate e poi pescare casualmente lui ed altri e incollare le parole mano a mano venivano estratte dal sacchetto. Alla fine si doveva leggere quello che era il risultato e ovviamente è facile pensarlo, il risultato era qualcosa di assolutamente incomprensibile, era una serie di suoni, di lettere, di parole in libertà. O altro modo era prendere un foglio di carta, lo si fa anche da ragazzini, ognuno scrive una frase, una parola e poi piega il foglio in modo che l'amico non possa vedere e ognuno scrive la propria frase. Alla fine si apre il foglio e si legge una sequenza di parole, di aggettivi, di avverbi che vanno a costituire un discorso che è completamente senza forma. Ma c'è anche un altro modo di scrittura automatica che è per esempio quella del frottage, ovvero prendere degli oggetti, una moneta o una foglia, appoggiare il foglio di carta e con la matita passare, come lo si fa all'asilo, quindi non è una cosa nuovissima, e passare la matita sopra l'oggetto in modo che resti impresso la forma dell'oggetto. Anche questa è un'altra forma di automatismo. Però la diversità rispetto all'action painting cos'è? Che l'automatismo si giustifica sull'idea che l'opera d'arte, per essere tale, deve sgorgare spontaneamente dall'artista o dagli artisti che partecipano all'opera, senza alcun freno inibitorio, senza alcun elemento culturale precostituito. È come se il loro, che sono adulti, ritornasse ad emergere il bambino prima dell'educazione, prima della parola, che potesse esprimersi con gli oggetti che in mano, che può essere le lettere da incollare e la matita per muovere sul foglio. Quindi quello è, diciamo, l'elemento automatico, perché vuol dire far sgorgare la spontaneità dell'artista. Nel caso dell'action painting in realtà l'artista è un adulto, che è perfettamente cosciente di essere tale, che entra certo in una forma di trance, di trasporto, di isolamento rispetto al mondo esterno sulla sua opera, però è un adulto, che si muove seguendo un proprio movimento interiore. Quindi è meno, se volete, meno spontaneo rispetto alla scrittura automatica. Bene, veniamo a una sorta di dadaista surrealista italiano, Piero Manzoni. Meraviglioso. Il liceo classico Vanucci di Perugia ci chiede, ci hanno parlato delle opere provocatorie di Piero Manzoni, ma se sono provocazioni, perché si considerano opere d'arte? Eh, perché sono provocazioni appunto, perché in realtà l'arte per essere tale deve essere anche provocatoria, provocatoria in senso, come dire, molto ampio. La provocazione non è semplicemente lo sberleffo e il sarcasmo, anche se è importantissimo, perché è proprio lo sberleffo ed è proprio il sarcasmo che costituiscono delle armi potenti per chi non ha altre armi, che non quella dell'espressione, del pensiero per rintuzzare le banalità, le violenze, gli ostracismi, tutto quello che il mondo in qualche modo, soprattutto nel nostro, nel secolo appena passato, ha portato ad evidenza. E quindi quello sicuramente. Però in realtà la provocazione è anche un modo per, come dice la parola stessa, provocare nello spettatore delle reazioni che non possono e non sono sempre e solo reazioni di fastidio o di riso o di così, di indifferenza, ma sono reazioni che invece mettono in moto o dovrebbero mettere in moto una serie, diciamo, di ragionamenti da parte dello spettatore che nell'opera in qualche modo rivede se stesso e vede il mondo in cui vive. Facciamo un esempio per capirci che diventa più semplice, perché ho detto che è meraviglioso Manzoni, perché è un personaggio che fra l'altro è morto giovanissimo, quindi in realtà parliamo di una persona che non sappiamo come poi avrebbe sviluppato il suo percorso artistico e fosse vissuto più a lungo. E nei 30 anni in cui è vissuto ha realizzato delle, diciamo, delle opere che hanno segnato veramente un cambiamento anche nell'arte contemporanea, quella nella quale viviamo oggi. Diciamo che lui era una specie di dadaista moderno, perché vive negli anni 60, quindi fine anni 50, inizio anni 60 e quindi il dadaismo era già, come dire, stato 50 anni prima. L'opera sua più nota, e credo che vi avrete sentito parlare, è La merda d'artista. Cos'è questa cosa? Beh, semplicemente è una provocazione, perché nel febbraio del 61 Manzoni presenta una serie di scatolette che erano quelle che poi tutti conoscevano, quelle delle scatolette per il brodo, per la carne, quindi una scatoletta da supermercato, sigillata, all'esterno della quale c'è una fascia di carta in cui si spiega che cosa è il contenuto, quanto pesa, quando è stata realizzata ed è firmata dall'artista. Ora è chiaro che l'oggetto in sé è una provocazione, basta vedere il titolo. Perché usa un titolo di questo genere? Perché naturalmente dice benissimo, siccome esiste un mercato dell'arte, esistono quelli che comprano le opere d'arte semplicemente per investire i loro soldi, ma non gliene importa nulla dell'arte. Tutti si spingono per andare all'inaugurazione delle gallerie d'arte, sembra di vedere l'oggi, no? Tutti si occupano dell'arte contemporanea, nessuno si occupa davvero dell'arte. Cos'è l'arte contemporanea se non la testimonianza del tempo in cui viviamo sia noi spettatori sia gli artisti. Allora dice benissimo, vi vendo quella che voi comprate, come comprate la mia opera, la mia opera migliore è questa e la definisce sulla scatoletta. Certo che questa scatoletta nessuno l'ha mai aperta, perché nel momento in cui l'ha aprita non vale più niente. Quindi chi l'ha pagata a centinaia di migliaia di euro, se la guarda bene da aprirla. Allora non è importante sapere cosa c'è davvero dentro. Quello che conta è l'elemento concettuale, cioè la dichiarazione che l'artista fa, dice che l'opera d'arte che voi comprate è semplicemente escremento, perché non potete comprare le idee. Le idee sono le opere d'arte e le idee sono di tutti. Ed è per questo allora che Manzoni, per esempio, realizza altre opere che sono, per esempio, gli Acrom, che significano opere senza colore e sono fatte di strisce di tessuto imbevuto nel caolino, cioè in un gesso molto diluito nell'acqua, che vengono tirate sulle tele e una volta che si asciugano diventano tutte come la tela del pittore, ma tutta tirata dove non c'è un disegno, non c'è un colore, non c'è nulla. Oppure le michette, i panini che si usano a Milano, fatti con il gesso praticamente, fissati sulla tela. Allora queste sono opere d'arte nel senso che ci obbligano a pensare che l'opera d'arte è un concetto, non è un oggetto. Questo è il segreto di Manzoni. Da Manzoni quindi arriviamo molto velocemente anche all'oggi, perché le installazioni, che sono un'altra forma di opera d'arte, sono da considerarsi effettivamente opere d'arte o in un altro modo, chiedono da Padova, dal liceo linguistico? Le installazioni per definizione sono delle cose, delle opere d'arte diciamo, che sono fatte per occupare il nostro spazio, nel senso che le opere d'arte occupano il nostro spazio, perché se uno va a vedere Leonardo piuttosto che una scultura di Michelangelo, lo spazio lo occupano, il quadro sulla parete Michelangelo in mezzo a una stanza. Le installazioni sono qualcosa di più complicato, perché occupano uno spazio di solito di dimensioni ragguardevoli in cui il pubblico non può limitarsi a stare all'esterno. Noi guardiamo Michelangelo da fuori, vediamo Leonardo da fuori e quindi c'è una forma diciamo di passività nostra nel guardare l'oggetto. Nell'installazione noi dobbiamo entrare, cioè diventiamo un oggetto noi stessi dentro l'installazione legato all'opera d'arte che l'artista ha realizzato e che ci obbliga a vivere. Per esempio se noi prendiamo l'installazione, una delle installazioni recenti che hanno avuto più successo, quella di Olafur Eliason, che è un artista del nord Europa, che si occupa proprio di trasformare lo spazio per il pubblico attraverso l'uso delle luci o di forme, diciamo di composizioni luminose appositamente create. Quest'opera è stata realizzata alla Tate Modern di Londra, che come è noto è un museo realizzato all'interno di una fabbrica, una centrale elettrica, che è stata poi smobilitata, è diventato un museo d'arte contemporanea, però nell'allestimento del museo la parte dove c'erano le turbine, che è un edificio gigantesco, se è alto 30 metri e profondo un centinaio, è rimasto come era nella sua cubatura. Dentro questo spazio Olafur Eliason cosa ha realizzato? Ha realizzato quello che si chiama Weather Project, cioè un progetto di creazione di un ambiente naturale in cui il pubblico del museo poteva vivere l'esperienza di una giornata, nel senso che come si vede al centro in alto c'è questa specie di grande sfera luminosa che cambiava colore e simulava il sole naturalmente, con i vapori d'acqua che venivano mandati eccetera, le persone si sdraiavano, si sedevano, stavano con i bambini, dormivano, come se fossero sotto, in un prato sotto questo sole che modificava continuamente la loro percezione dello spazio, dal tramonto all'alba fino a riaccendersi del sole, quindi lo spazio del museo, lo spazio della vecchia fabbrica, lo spazio chiuso diventava uno spazio altro, quella è un'installazione e diventa un'opera d'arte nel senso che il pubblico la fa diventare un'opera d'arte, perché la vive come esperienza creativa per sé e anche cognitiva e anche percettiva, però ci sono delle installazioni che risalgono molto prima, se noi prendiamo per esempio l'idea, il progetto di Vladimir Tatlin per il monumento della terza internazionale, che non è mai stato costruito ma doveva essere un monumento gigantesco, costruito vicino all'ermitage a San Pietroburgo, che doveva contenere una serie di strutture, un cubo, una piramide, un cono, un cilindro, eccetera, che contenevano l'aula per questa assemblea della terza internazionale comunista, gli uffici della radio, eccetera, immaginate che era un attore, e qui si vede appunto il bozzetto originario di 350 metri di tralicci metallici, all'interno del quale queste stanze che avevano queste forme geometriche ruotavano su un termo a velocità diverse, una nell'arco di un anno, l'altra nell'arco di un mese, l'altra nell'arco di un giorno, colorate, con musica, quindi in realtà era un oggetto d'opera d'arte totale ed era un'installazione che serviva degli scopi, c'era la radio, c'era l'ufficio politico del partito comunista sovietico, c'era il luogo delle assemblee, ma era anche un oggetto architettonico e artistico, quindi in realtà il concetto di installazione nasce proprio all'inizio del Novecento ed è arrivato fino a noi. Dalla pittura, alle installazioni, alle scatole di Manzoni, alla scultura. Ho studiato le opere di Brancusi, certo sono sculture, ma non hanno più niente in comune con la scultura precedente, come mai? Sì, perché in effetti Brancusi è un altro come Manzoni e come Poldo, che sono gli artisti che abbiamo citato prima, che hanno segnato un passaggio fondamentale nel corso del Novecento e che hanno segnato poi l'arte contemporanea come oggi la percepiamo, perché Brancusi è arrivato a Parigi, giovane, ma già con una sua formazione artistica, lui era romeno d'origine, quindi portava con sé nella Parigi che allora era il fulco dell'arte mondiale, perché tutto era lì, tutto si svolgeva lì, vuol dire a ridosso della fine della Prima Guerra Mondiale, cioè negli anni venti, lui è arrivato un po' prima, ma insomma in quel periodo lì, e porta con sé naturalmente tutto il suo bagaglio culturale, che non è solo la sua lingua, ma sono le leggende, le tradizioni del popolo rumeno legato alla terra, legato al ciclo delle stagioni, legato alle favole, alle leggende e trovandosi a Parigi a confrontarsi con il cubismo di Picasso, con le opere di Modigliani, con le novità che venivano dall'avanguardia e fonde, diciamo, la tradizione contadina arcaica della sua terra e i nuovi linguaggi dell'arte, compresa anche il dadaismo, e dà vita a qualcosa che è un nuovo idea di scultura. Per esempio la colonna infinita, che cos'è? Se non un assemblaggio di un elemento architettonico, cioè un tronco di piramide, unito per la base, quindi sono coppie di tronchi di piramide, che come dice il titolo stesso, è una colonna che può arrivare all'infinito, può essere fatta come in questo caso di legno scolpito dall'artista, può essere modellata e fusa in bronzo, come del resto è stato fatto, e che cosa sta a significare? È un oggetto, è un oggetto tridimensionale, quindi è una scultura nel senso che occupa uno spazio tridimensionale, è una scultura nel senso che è modellata dall'artista, cioè non è la ruota di bicicletta di Duchamp, per capirci, però è un oggetto scultorio che ha perso qualsiasi legame o connotazione con la scultura come c'era arrivata dal mondo classico fino a quel momento lì. Non è più la figura umana, non è più legata a proporzioni di carattere, diciamo, appunto geometrico, non rappresenta nulla di riconoscibile, è un'idea, un'idea che mette insieme perfezione o semplicità geometrica, il trunco di piramide e una leggenda, cioè la scala, che è una leggenda che risale anche alla tradizione biblica, la scala di Giacobbe, Giacobbe sogna una scala che unisce la terra e il cielo e la colonna infinita, è la scala che collega la terra e il cielo in una forma geometrica. Se noi guardiamo Uccello nello spazio, con un'altra scultura famosissima di Brancugi, che ribanda anche questo caso all'uccello mitico che nella leggenda popolare rumena è l'uccello che porta, è l'uccello dalle piume d'oro, è quello che porta, come dire, l'abbondanza nella primavera, in Brancugi questo uccello non ha la forma di un volatile, non ha il becco, non ha le ali, non è descritto per quello che è raccontato, diventa una forma pura, una specie di totem purissimo, è realizzato in bronzo coperto di questa doratura e che cosa succede? Che la doratura riflette noi, riflette l'intorno, cioè persino la scultura, perché è tridimensionale, se noi la tocchiamo sentiamo che è di pietra la base ed è di metallo l'oggetto scultorio, ma il nostro occhio percepisce, diciamo, una superficie riflettente, cioè la scultura denuncia di non essere più scultura. In questo senso Brancugi ha proprio tagliato definitivamente il cordone umbilicale con la tradizione del passato. Veniamo a un altro italiano, Burri. Nonostante sia stato un artista informale, è riconoscibile nelle sue opere una certa classicità. Questo è dovuto all'influenza del suo logo di nascita? Ah, sì, sì, in effetti è vero, perché tante volte non ci si pensa, lo dicevamo adesso per Brancugi, quando si ragiona sugli artisti, sulle opere, forse anche per semplificare un po', si ragiona pensando agli artisti come isolati da un loro contesto originario e da un loro contesto, diciamo, di rapporti. Per cui c'è sempre, diciamo, una descrizione, ma questo lo si fa a scuola, ma lo si fa comunque quando se ne parla, per semplificare. Però bisognerebbe avere invece tutte le volte l'attenzione a collocare le opere d'arte, gli oggetti d'arte di cui si parla e l'artista dentro dei contesti che chiariscono poi perché queste cose nascano. E soprattutto il contesto di crescita di queste persone, perché è chiaro che un artista è una persona che ha avuto un'infanzia, che ha avuto, diciamo, nella mente, ha costruito una memoria di cose che ha visto e che inevitabilmente, anche se a un certo punto della vita le dovesse rifiutare, inevitabilmente gli appartengono. Allora è pensabile che Burri, che è cresciuto in Umbria, tra città di Castello e Perugia, che certo ha vissuto la seconda guerra mondiale, è stato in un campo di prigioniere negli Stati Uniti, ha studiato medicina, non doveva fare l'artista, doveva fare il medico, e che invece proprio sulla scorta di quello che probabilmente ha memorizzato da giovane, da piccolo, ha cominciato a costruire una sua espressione artistica, che in effetti diventa classica però nella fase, diciamo, più matura, perché inizialmente le scelte di Burri sono scelte volutamente anticlassiche. Se pensate che le prime esperienze di Burri si basano sul recupero dei sacchi della posta, cioè della posta che arrivava ai prigionieri dei campi di prigionia, proprio a ridosso della fine della guerra, questi sacchi sono sacchi di juta, fatti industrialmente un po' come aveva fatto Duchamp che aveva preso la ruota di una bicicletta. E questi sacchi di juta naturalmente venivano usati sbattuti per terra, messi sui carri ferroviari piuttosto che sugli aerei, quindi portavano le macchie di unto, di sporco, erano graffiati e talvolta erano stati addirittura rattoppati per non buttarli via, si riutilizzavano. Questi sacchi di juta quindi vengono presi da Burri, tagliati a seconda della misura che gli serviva e tirati su un telaio da tela da pittore o incollati addirittura su una tela da pittore. E su questa juta, su cui lui non aveva fatto nulla, poteva fare dei piccoli interventi, un taglio con del colore o un'aggiunta di colore e così via. Allora, se noi li guardiamo, questi oggetti in effetti sono materia, materiale, si diceva prima cos'è l'informe, un po' quello ha un aspetto informale d'acchito. Tuttavia, se noi li guardiamo in sequenza, questi oggetti, e soprattutto andiamo a vedere le opere di Burri più mature, cioè le grandi tele astratte o i cretti che sono anche lì delle composizioni fatte col vinavil e il gesso, proprio la colla che viene rovesciata dall'artista dentro un contenitore, dentro una forma, poi quando man mano si asciuga, il vinavil plastifica, l'acqua viene, evapora e si formano tutte delle fratture, delle crepe in questa superficie che all'inizio era tutta omogenea. È chiaro che le fratture mica le fa l'artista, è un dato fisico, però alla fine noi abbiamo questa superficie tutta crettata, cioè tutta forata ed ha una sua bellezza, in questo senso classica, perché esattamente come i sacchi, se noi li guardiamo, esiste una logica a monte, probabilmente spontanea e poi ovviamente elaborata dall'artista, di equilibrio fra il sacco, la parte colore, la parte liscia, la parte ruvida e così il cretto, il modo in cui queste crettature si creano seguendo delle leggi fisiche, quindi delle leggi in qualche modo razionali, matematiche, hanno una loro classicità, sembra un basso rilevo antico senza figure, ecco questo in sostanza. Un altro grande artista mancato di recente era Anthony Tapies, che tipo di opera ha prodotto? Si può paragonare a Burri in qualche modo? Si può paragonare a Burri, sì, perché in qualche modo hanno vissuto una tempere culturale molto simile, per quanto Tapies è vissuto molto di più di Burri, infatti è mancato qualche mese fa, è un artista catalano, è vissuto a Barcellona, è stato ovviamente a Parigi e quant'altro, è un po' come Burri, è un po' come gli informali americani, proprio negli anni 50, 60 e poi ha continuato questo suo percorso fino alla morte, Tapies ha ragionato sul fatto che l'opera d'arte, esattamente come gli artisti di cui vi abbiamo parlato prima, non fosse necessariamente qualcosa di creato dall'artista fisicamente, cioè non è il pennello, il colore, la tela, l'argilla modellata, il legno scolpito o il marmo lavorato a creare l'opera d'arte. In realtà l'opera d'arte, se deve essere, come tutti questi artisti pensano, testimonianza del proprio vissuto, quindi diciamo uno specchio di quello che l'artista è nel suo percorso, nella sua realtà contemporanea e nello stesso tempo è specchio della realtà che lo circonda e quindi la nostra, allora perché non prendere per esempio, Tapies fa proprio questa operazione, frammenti di parete, frammenti di marciapiede, parete vuol dire proprio un muro di cemento di un edificio, un marciapiede, una colata di cemento che fa apposta l'artista con dentro pezzi di ferro come fosse un cantiere d'Ile e dove questa superficie però non è semplicemente o banalmente un pezzo di muro preso da una casa in demolizione e collocato dentro una galleria d'arte, non è l'operazione di Duchamp che prende una cosa già fatta, la mette, la firma e ti dice ragionaci. In realtà questo pezzo di muro, questo diciamo anonimo frammento di realtà viene scelto perché porta su di sé dei segni, un po' come i sacchi di burri, dei segni di vissuto, sono per esempio immaginate una parete di un edificio che sta per essere debolito, su cui sono ancora visibili dei graffiti, delle parole scritte da qualche persona che è passata, da un ragazzo, da un graffittaro, un pezzo di cartone di un manifesto pubblicitario che è rimasto attaccato, i segni di un mobile che è stato sbattuto contro la parete mentre facevano un trasloco, cioè non un muro liscio, non un muro classico, non un cretto classico alla burri, un muro che è tutto vissuto, è tutto accidentato come la corteccia di un albero, come il corpo di un vecchio e allora quel muro, quell'oggetto dove fra l'altro l'artista interviene con dei colori o con dei graffiti ulteriori, diventa una testimonianza di una storia, una storia che è quello che l'artista ci racconta, ci pone davanti agli occhi, è come se ci dicesse guarda quello che ti circonda, anche quello che ti sembra il più banale, il più quotidiano che è il marciapiede dove cammini, la casa passi vicino, benissimo, guardala perché quella è una testimonianza della vita, in questo senso è un artista che ha segnato davvero un modo, altro di creare un medium dell'arte nuovo. Torniamo a Fontana, ma un taglio nella tela, come può oggi definirsi ancora un'opera d'arte? E beh, intanto perché l'ha inventata lui e quindi non c'è arrivato nessuno prima, è chiaro che oggi per tutti sarebbe facile e ci sono quelli che imitano Fontana, però l'invenzione e quindi l'opera d'arte è stata fatta appunto da lui. E Lucio Fontana per esempio è un classico, come lo è Burri del resto, anche se il suo rapporto con l'oggetto d'arte è un rapporto conflittuale, un rapporto se volete apparentemente violento, perché il taglio immediatamente a noi contemporanei induce a pensare che sia un gesto violento e invece per Fontana è anche un gesto d'amore, è anche un gesto diciamo di creativo. Innanzitutto va detto che le opere di Fontana con i tagli hanno un titolo che spiega anche che cosa sono, si intitolano attese, quindi vuol dire che l'opera che noi abbiamo davanti agli occhi è qualcosa che racconta della sua vita, della nostra vita, che cosa sono le attese. Le attese è tutto ciò che deve ancora avvenire e che probabilmente non avverrà e che è l'attesa della donna amata, è l'attesa di qualcosa che deve cambiare la nostra esistenza, la nascita di un figlio, superare un dolore, quindi le attese è tutto ciò che gli esseri umani hanno nella loro testa, nella loro percezione e che sono pieni di speranze, di valori di altro e che non è detto che si realizzano. Allora nella realizzazione, scusate il besticcio di parole, dell'opera che cosa fa Fontana? In realtà realizza tecnicamente due tele, una sottostante che non vediamo, che è di solito colorata appunto di un colore scuro, il nero simiglia e sopra tira un'altra tela che è quella che vediamo, che solitamente ha un colore monocromo, bianco, rosso, blu. Tuttavia come vedete in questo caso la tela non segue la forma del quadro tradizionale, non è né quadrata né rettangolare, è una forma sghemba e già questo mette in difficoltà perché non è un quadro in senso stretto, non è qualcosa che noi riconosciamo, è una forma. Il colore monocromo, come dire, rende ancora più piatta l'immagine e allora l'intervento col bisturi, con la lametta, che è un intervento, ripeto, non di violenza, non è lo sfregio all'opera d'arte, è il contrario, è quasi un atto dovuto che l'artista mette in campo con la speranza di aprire delle nuove strade. Il taglio è un taglio sottile, delicato, non violento, non è un gesto di crudeltà. Questo taglio da bisturi cosa fa? Apre la tela, la slabbra lievemente e fra l'altro siccome la tela è in tensione sul telaio, ovviamente il tessuto si tende e talvolta si solleva come una ferita o come delle labbra aperte oppure si ripiega all'interno. Questo e poi si ferma naturalmente perché il taglio è lineare, è semplicissimo o più di uno anche. Che cosa vede il nostro occhio però? Al di là cosa si aspetterebbe di vedere? Il muro sul quale è appeso questo oggetto bianco e invece vede un altro colore, vede un nero. Ma non lo vede neanche, intuisce che c'è qualche altra cosa e cosa c'è dietro quel taglio? C'è tutto un altro mondo, c'è un'altra dimensione. Alla fine queste attese sono delle macchine per farci pensare, cioè è un modo per fissare la nostra attenzione e cogliere il fatto che l'opera d'arte non è la superficie. Può essere anche la Gioconda, può essere il più straordinario dipinto del Rinascimento italiano, dell'Ottocento. Può essere Boccioni, Balla, quello che volete voi. Ma quella è superficie, cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro è un dietro ovviamente non fisico, un dietro mentale. Ci sono gli altri mondi, le altre possibilità e le nostre attese aspettano queste possibilità. Sta in noi giocarcele e Fontana ce lo dice. Chiudiamo con il grandissimo Man Ray. Può anche lui dirsi un artista? In fondo recupera solo degli oggetti. Eh sì, è come Duchamp, in fondo recupera solo degli oggetti. Però è chiaro che come il gesto di Duchamp che prende appunto una ruota di bicicletta e la colloca in una galleria d'arte e ci dice guarda quella ruota di bicicletta, da quel momento lì in poi fai fatica a non guardare la tua bicicletta e pensare che puoi essere un'altra cosa. Ma al di là della battuta, Man Ray certamente è un artista che usa fra l'altro un medium che molti di questi artisti hanno usato, ma l'hanno usato con lo scopo di ragionare su quello che stavano facendo, che è lo strumento fotografico. Man Ray lo usa come medium di comunicazione. È famosissima la fotografia della modella di spalle in cui con un'operazione di fotomontaggio segna i fori della cassa armonica di un violino. Il corpo della modella è il corpo di una viola da gamba e questi segni sembrano trasformare il suo corpo in uno strumento musicale con tutti i sottintesi legati all'eros, all'amore, alla passione, alla bellezza del corpo femminile. Quindi la fotografia diventa veramente un oggetto d'arte. Ma Man Ray usa, proprio essendo amico di Duchamp e frequentando l'ambiente surrealista di Duchamp, degli oggetti che però trasforma. Duchamp non li trasforma, li prende e li utilizza così come sono, al massimo intervenendo con una firma. Invece Man Ray, come altri surrealisti, prende gli oggetti e li combina. Per esempio Cadot, che è questo ferro da stiro, come erano i ferri di a stiro degli anni 20, c'è non certo ferri a vapore, erano ferri fatti appunto di ferro che venivano scaldati sulla stufa e servivano per stirare i panni e la biancheria. Quindi un oggetto domestico che tutti avevano e che era legato proprio all'immagine dell'idea della vita casalinga. Lui li abbina con che cosa? Con una striscia di chiodi che vengono saldati sulla superficie piana, quella che serve per stirare del ferro. Che cosa succede a questo oggetto? Nel momento stesso in cui lui mette i chiodi, è chiaro che l'oggetto non può più servire per quello che è il motivo per cui era nato, cioè non puoi stirare dei panni con i chiodi perché altrimenti non hai più i vestiti. Perché lo chiama Cadot, cioè il regalo? Perché è chiaro che la contrapposizione tra la parola, cioè il titolo e quello che noi vediamo, è frottissima. Se questo è un regalo, guardiamoci bene, è qualcosa di violento, è legato all'immagine del mondo femminile che allora era legato esclusivamente al mondo casalingo, alla casa, alla maternità, eccetera. Per cui in realtà mettere il ferro da stiro con i chiodi è come per dire guardate la vita delle donne bloccata dalla nostra abitudine, dalla nostra tradizione, nel nucleo familiare dove avvengono i peggiori delitti, le peggiori violenze, le cose più atroci. Quindi era un modo forte per rappresentare qualcosa di assolutamente rivoluzionario. D'altra parte la teoria dei surrealisti, l'aveva scritta Breton nel manifesto del surrealismo, era che la bellezza dell'oggetto d'arte era l'incontro tra un ombrello e una macchina da scrivere su un tavolo operatorio. A voi farà ridere questa frase, in realtà era fatta anche per provocare un riso. Ma voleva dire anche un'altra cosa, è l'artista che prende una macchina da scrivere e un ombrello, cioè due oggetti nati dall'uomo per due funzioni completamente diverse, e su un tavolo operatorio che è la sua testa, li può combinare dando vita a un terzo oggetto, che è un'altra cosa, così è Cadot o così è la Venere legata, che è appunto un busto classico, una copia di un gesso o di una scultura antica, che Marrae lega con una corda vera. È chiaramente una polemica nei confronti della classicità. Quindi di nuovo l'arte contemporanea si mette a confronto con l'antico, ma fa un'altra strada. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti per averci seguito e a presto. Grazie.